Sarebbe dovuto essere pronto lo scorso 11 agosto, ma come si può vedere dalle immagini che stanno scorrendo in questo momento, il playground del quartiere La Rosa di Brindisi versa ancora in uno stato embrionale, con la sola pavimentazione e l'installazione dei canestri completati. I lavori per realizzare un'area gioco per ragazzi e adulti sono iniziati poco più di un mese fa, con un progetto da 110.000 euro, e comprendono la realizzazione di un campo da basket, un'area di allenamento per adulti con una trave con anelli, una scala orizzontale e una panca obliqua, e anche un'area gioco per bambini, con giochi su molla, uno scivolo, un tunnel e una giostra. Inoltre all'intera zona interessata è obbligatoria una riqualificazione totale, in quanto è caratterizzata da erbacce in cui vivono anche animali di vario tipo. Come spesso accade in città, bisogna attendere molto tempo, più del previsto, per vedere realizzata un'opera che sarebbe dovuta essere pronta nel giro di poche settimane o pochi mesi, come la pista ciclabile di Viale Aldomoro o lo shuttle. Ed ora si aggiunge anche il playground, che riqualificherebbe il quartiere La Rosa, uno dei più periferici e abbandonati di Brindisi, e fungerebbe anche da luogo di aggregazione per i ragazzi. Pertanto si tratta di un progetto importante. A usufruire di tale opportunità saranno anche i rioni Perrino in Via Crati, Minuta in Via del Lavoro e a seguire anche la Commenda in Piazza Pulia e Santeria in Viale Leonardo da Vinci. Sono zone in disuso e abbandonate a se stesse e mai valorizzate. Si tratta di un progetto voluto fortemente dall'ex assessore allo sport della precedente amministrazione Oreste Pinto, che appunto prevede la realizzazione di campi da basket, ampi spazi gioco per i più piccoli e attrezzi per il fitness. Vere e proprie aree a verde dunque senza barriere e attrezzate per lo sport e la socializzazione, in cui poter dedicare del tempo a se stessi, a due passi da casa, nel proprio quartiere. Per questo motivo non dovrebbero essere più tollerabili sistematici ritardi che oscurano un progetto ambizioso che interessa lo sport e soprattutto il sociale.